...dove tra poco si giocherà la finale per il terzo posto del campionato Sportland a tempo casa, appunto la formazione del nostro capitano e Atletico 94. Avete perso una sola partita durante tutta la stagione e purtroppo è stata quella fatale, il semifinale contro gli FC Hotel, sicuramente un po' di rimpianti immagino a questo punto, no? Sì, indubbiamente sì, però diciamo, essendo il primo anno che partecipiamo a questo circuito, siamo soddisfatti, molto contenti e va bene così. Quali sono stati i vostri punti di forza della stagione, visto che avete ottenuto comunque un ottimo risultato, comunque finisca questa finalina? Sì, diciamo che in effetti siamo riusciti a vincere un po' tutte le partite, tranne la semifinale, è stato il gruppo, perché comunque anche in inverno quando mancava uno, due o tre persone, c'erano gli altri, quindi la squadra è rimasta sempre unita e compatta, la nostra forza è il gruppo. Progetti per il futuro? Sicuramente rifare questo campionato e vediamo l'anno prossimo se riusciamo a fare qualcosa di più. Perfetto, grazie. Prego, questo capitano. Giovanni Bruno, il capitano dell'Atletico 94, formazione che tra poco disputerà la finale per il terzo posto contro Tempo Casa, avete perso la semifinale con Little Finans che è stata fatale, quindi è arrivata questa finale per il terzo posto, sicuramente vogliosi in maggio di ottenere comunque un terzo posto che ha un piazzamento sul podio, però penso con un po' di dispiacere. Sì, certo, questo sicuramente, però l'importante è essere arrivati fin qua, abbiamo fatto un buon campionato, non ce l'aspettavamo, però in ogni caso un applauso a tutta la squadra, soprattutto anche da parte mia che ho giocato pochissimo, però sono contento e felice per loro. Ecco, raccontaci un po' come è stata la vostra stagione, voi siete il primo anno, mi sembra, che giocate qui, no? No, 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 noi già l'ottavo anno che giochiamo qua o il settimo adesso non mi ricordo di preciso, però in ogni caso abbiamo fatto un buon campionato che abbiamo perso solo nel girone di qualificazione, quindi abbiamo fatto un ottimo campionato, direi. Abbiamo perso purtroppo la semifinale. E che purtroppo ci sta, perché sicuramente avete affrontato un Italfinas che è una formazione molto forte. Molto forte, certo, mi pare che abbia vinto il suo girone, quindi abbiamo fatto più del dovuto, secondo me. Comunque un applauso a tutta la mia squadra. Perfetto, grazie e buona partita. Grazie. No, 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 no. C'è dei due a lì, eh? Dietro. Ho vinto? Ho vinto? Ho vinto subito. Allora, hai potuto l'ultima, eh? No, 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 no. Brava, 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 brava Attenzione! Va bene dai! Bravo Mauro! Bravo Mauro! Così dai! Sì! Sì! Anche! Anche! Sì! Sì! Bravo! Bravo! Sosto dw시 gre kicks! Un attimo! Un attimo! Ad esempio! Continto! Non lo fa studio qua Rovago! Fuoriamo via Rovago! Vi seguite! Fuori tu! Fuori! Fuori! Federico! F pasó! Quanticato! Fuori esmeralmente. Sivo, chiamala la palla, Sivo. Sivo, chiamala la palla, Sivo, chiamala la palla. Bravo! Sivo, chiamala la palla. Sivo, chiamala la palla, Sivo, chiamala la palla. Sivo, chiamala la palla. Sivo, chiamala la palla, Sivo, chiamala la palla. Sivo, chiamala la palla, Sivo, chiamala la palla. Sivo, chiamala la palla, Sivo, chiamala la palla. Sivo, chiamala la palla. Sivo, chiamala la palla. Scusi, grazie. Accelera, accelera! Sì, sì, vai! Veloce! 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 Tira, tira, mi non ce l'hai! Vai, tre, vai! Grazie! Oh! Bravi, bravi! Ancora! Guarda, guarda, guarda! 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 Guarda, guarda! Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un attimo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.